Contestazione di reato peculato. Un'azione criminosa, spiega il sostituto procuratore Michele Sir Giovanni, nell'avviso di chiusura delle indagini notificato ad otto indagati, realizzata con più atti esecutivi di un medesimo disegno, ciò allo scopo di agevolare l'appropriazione di somme per complessivi 73 mila euro. La prima tappa dell'inchiesta dalla procura di Libo Valencia sui fondi, che sarebbero stati indebitamente fagocitati dai gruppi consigliari dell'amministrazione, poi decaduta a fine 2013, in ragione della mancata approvazione del bilancio, giunge al capolinia. Stralciate le posizioni dei singoli consiglieri, l'avviso di chiusura indagini è stato notificato all'ex presidente della provincia Francesco Denisi, agli allora dirigenti dell'ente Antonio Vinci ed Armanda De Sossi, al presidente protempore del consiglio provinciale Giuseppe Barilaro e agli allora componenti della conferenza dei capigruppo Giuseppe Raffaele, Francesco Filippis, Giuseppe Condello e Carlo Brosio. L'inchiesta ebbe inizio dopo la scoperta del milionario a manco nelle casse dell'ente imputato alla dipendente Reoconfessa Mirella Currò in concorso con altre persone oggi sotto processo penale. Avviata con il contributo dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Vibo e del nucleo di polizia valutaria di Reggio ha portato l'ufficio guidato dal procuratore Mario Spagnuolo ad accendere riflettori su ogni determina partorita dalla provincia di Vibo, comprese quelle che destinavano risorse e gruppi consigliari poi destinate, secondo gli inquirenti, alle attività più disparate, dalle sagre paesane alle società sportive, comunque sia lontane dai fini istituzionali per cui erano state stanziate.